ultimo viaggio alla scoperta dei cari allegorici 2024 del carnevale di fano siamo in compagnia del carrista paolo furlani che ha realizzato un'opera dedicata al personaggio ospite di questa edizione paolo raccontiamo la sua opera intitolata chiamatemi direttore il lavoro ovviamente su richiesta quindi diciamo non c'è un progetto mio c'è un progetto personale ed è ad onore diciamo del direttore beatrice venezzi ecco il carro è un carro di media dimensione per dare suogo diciamo alla figura principale il carro praticamente c'è questa figura principale il carro solo un supporto diciamo per per lei per la beatrice venezzi abbiamo utilizzato una meccanica c'è idraulica per movimentare diciamo la figura quindi probabilmente ovviamente sono delle sperimentazioni movimento della mano sia mentre lei dirige cioè due le braccia perché una di sotto hanno una pacchetta e l'altra in posizione come se incitasse diciamo i componenti dell'orchestra alzare il tono o passare eccetera per la visione del carro diciamo completo vi aspettiamo domenica 28 gennaio